buongiorno bentrovati buon martedì dopo pentecoste oggi è il 30 maggio e la chiesa ricorda san paolo sesto che nata conceso brescia una famiglia cattolica benestante gesuiti poi si terminò liceo nel liceo pubblico poi diventò entrò nel seminario studiò diventò poi importante ufficiale della curia romana fece carriera diplomatica fu un grande collaboratore di più dodicesimo poi diventò rici vescovo di milano ed infine papa paolo sesto e concluse il concilio vaticano secondo e guidò la chiesa negli anni tempestosi del post concilio affidiamoci la sua intercessione perché ci aiuti a ritrovare sempre cristo come il fondamento della nostra speranza ecco il vangelo di oggi lettura del vangelo secondo marco in quel tempo pietro dice a gesù ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito gesù gli rispose in verità vi dico non ve nessuno che abbia lasciato casa fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e cosa del vangelo che non riceva già il presente cento volte tanto in case fratelli e sorelle madre e figli e campi insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna e molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi primi parola del signore il brano di oggi segue immediatamente l'episodio del giovane ricco gesù ammonisce sul pericolo delle ricchezze e ribadisce che per mettere dio al primo posto occorre avere il cuore libero dalle ricchezze san paolo dice che la ricchezza l'avarizia è idolatria l'avarizia estrazzabile è idolatria ecco allora dobbiamo usare dei nostri beni certo se non ha fatto il voto di povertà ha dei beni che deve anche gestire con responsabilità ma deve ricordarsi anzitutto che i beni hanno una destinazione universale generale che più importante dell'uso privato di usare anche dei propri beni privati per il bene degli altri e non solo per il proprio bene questo sguardo ci apre alla generosità all'attenzione ai poveri e alla fedeltà al vangelo chi ha chiamato poi deve essere più generoso degli altri chi ha una missione nella chiesa di essere più generoso degli altri nel dispensare sui beni poveri sapendo bene che chi dona al povero riceve da dio preghiamo gli uni per gli altri buona giornata sia lodato gesù cristo